Siamo qui oggi con Richard Bolstad, noto psicoterapeuta e trainer di PNL, programmazione neurolinguistica, venuto da Auckland, in Nuova Zelanda, qui a Frosinone, per due giorni di formazione, presso la scuola PNL Coaching. Richard, come la PNL ha cambiato e migliorato la tua vita? Richard, la prima domanda è come la PNL ha cambiato e migliorato la tua vita. Grazie. Ok, quando mi sono avvicinato la PNL, ero molto, molto sceptico. Ah, ok. Sì, la prima volta che mi sono avvicinato alla PNL ero veramente molto, molto scettico rispetto alla PNL. Come ogni cosa rispetto alla quale sono scettico, mi sono messo a sperimentarla per veramente capire se questa cosa, di questi cambiamenti così rapidi fosse possibile. Nel giro di soltanto qualche mese ho cambiato quella che è stata la mia carriera e mi sono spostato nell'utilizzo della PNL come strumento per aiutare le persone a cambiare. E ricordo quando il figlio di un mio carissimo amico mi disse, tu sei una delle persone più piacevoli che abbiamo visto nella PNL. E per me questo è probabilmente più importante che alcune delle altre cose che ho cambiato conoscenze, che ho appena 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 essere la persona che volevo essere. E questo, al di là di tutte le altre cose che potessi cambiare a livello razionale, questo per me è stato l'obiettivo, il risultato più importante, cioè essere me stesso in maniera ancora più forte di quanto fossi prima. Ok, grazie. Richard, qual è la vera forza della PNL? I think actually the power of NLP comes from its first presupposition or assumption. Quello che penso è che la vera forza della PNL derivi dalla sua prima presupposizione, dal suo primo presupposto. E questa presupposizione è la seguente, che la mappa del mondo che abbiamo nella nostra testa non è affatto la realtà del mondo che ci circonda. Io vengo dal mondo della psicoterapia dove ci sono delle situazioni in cui si sono separati, Freud, Jung si sono separati e ognuno è andato per la sua strada e ha detto la mia verità è la verità e gli altri modelli, gli altri approcci sono tutti sbagliati. Mentre nella PNL se qualcuno fa qualcosa di diverso e trova un altro modo per essere ancora più efficace e non è determinata cosa, le altre persone della stessa comunità della PNL dicono bello, questo qui ha trovato un altro modo per risolvere ancora meglio e in modo più efficiente questa cosa. Questo crea quello che io chiamo un sistema aperto, che per definizione cresce, si evolve sempre e non ha limiti, non ha un punto di arrivo, un punto di finale. Richard, la PNL è nota per la sua capacità di apportare cambiamenti in brevissimo tempo, anche nel giro di una singola sessione, ma come fa la PNL a fare così? Did you get the question in Italian? I think it's because what we have in NLP is a way of understanding the brain that is closer to the way the brain actually works. Quello che noi facciamo nella PNL è un modello che spiega come funziona il cervello, che è veramente molto simile, molto vicino a come realmente il cervello funziona. E' come se avessimo le istruzioni che sono riferite ad un certo meccanismo ed usando bene queste istruzioni possiamo far sì che questo meccanismo lavori in modo più rapido, più veloce e più efficiente che di prima. Vengo anche dalla formazione di tipo infermieristico e paramedico. And so I'm very interested in the development of neuroscience and one of the things that's most amazing is to see how much modern neuroscience is confirming the things that I began teaching in NLP 30-40 years ago. Ok. Quello che io sto avendo da questa esperienza e dal mio interesse per le neuroscienze sono tutta una serie di conferme scientifiche che emergono da queste ricerche di quanto tutte le cose che io insegno ormai da 30 years, 40? 30 years. Da quello che io insegno da 30 anni e più e sia tutto vero, sia tutto fondato. Adesso stanno arrivando pezzo per pezzo tutte le varie conferme dalle neuroscienze. Siamo arrivati ormai al punto dove non ci serve più avere dei nomi separati. Quello che ormai è la PNL, non c'è distinzione tra quello che è la PNL e la neuroscienza applicata. Richard, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità per questa prima giornata e siamo grati per tutto quello che ci hai dato oggi. Grazie. Grazie.